a più più nasce come principio di architettura più tutta una serie di cose architettura legata alla sostenibilità a più più coraggio perché chi sta al vertice ha tantissimo coraggio e il coraggio è la dote che ti permette di toccare le vente più alte qui si è veramente come una famiglia cioè si lavora in squadra ci sono poche gerarchie ogni idea viene presa in considerazione we are human l'uomo per stare bene deve stare bene con se stesso ma deve star bene con l'ambiente in cui vive se riusciamo a ottenere un sorriso ottenere una vita felice ottenere un ambiente che che si avvalora ok abbiamo fatto un bel progetto anche sostenibile nella maniera più allargata del termine